Segretario regionale ANED, Eleonora Corona, oggi è partita questa protesta presso l'ospedale San Massimo di Penne. Quali sono le ragioni? Sì, oggi è partita, oggi ci siamo incontrati con i pazienti, con i dializzati e con operatori sanitari all'ospedale di Penne perché noi denunciamo una situazione strutturale inadeguata, una situazione strutturale di alto rischio clinico. È inutile tergiversare, la direzione sanitaria è già stata messa al corrente con dei protocolli che datano 2016 ma vi dico che stamattina per la presenza di un dottore sono venuta a sapere che dal 2008 si denuncia questa situazione. Quindi da oggi noi ci mettiamo in movimento, in protesta, ma proprio perché questi pazienti hanno il diritto di una dialisi fatta in un posto adeguato alla loro cronicità, alla loro malattia. Come andrà avanti la lotta dell'associazione ANED presso l'ospedale di Penne? Noi oggi ci facciamo portavoce e saremo presenti sui banchi istituzionali. Abbiamo necessità di avere delle risposte datate. Controlleremo gli step di avanzamento di ogni singola corso d'opera, saremo sempre presenti perché ci siamo stancati delle promesse.